Sì, grazie Presidente. Purtroppo il consigliere Corsetti invece di attenersi ai contenuti della Ribella ha iniziato una battaglia forse personale contro di me, io ho spiegato che ho avuto un atteggiamento umile di fronte agli uffici, di fronte alla proposta iniziale, di fronte alla sofferenza di tante attività produttive ho ritenuto di dover portare delle risposte, che queste risposte fossero forse eccessive all'inizio nelle proposte l'ho anche detto in diversi interventi. Quindi ora andare a fare il perfettino, il professorino della situazione andando a cercare una virgola nella proposta iniziale o nella modifica per rappresentare forse l'unica forza che rappresenta, cioè alcune associazioni di residenti della città storica molto numericamente poco rappresentative, non mi sembra giusto nei confronti di tutti gli altri cittadini. Io cerco sempre di trovare l'equilibrio, ripeto, anche riconoscendo i miei errori perché penso che sia un vantaggio e un qualcosa che l'uomo deve sempre tener conto, che si cresce riconoscendo i propri errori e andando avanti e non ponendosi su un piedistallo come unici depositari della verità rivelata. Grazie.